Caparezza, il famoso cantante pugliese per eccellenza, ripeto Caparezza lascerebbe la musica, lascia la musica, punto interrogativo, è una domanda che molti fa si stanno facendo in queste ore di tempo. Pensate che l'uomo in questione sarebbe stato vinto da parte della malattia, in particolare Caparezza al secolo Michele, questo è il nome dell'anagrafe, soffrirebbe di ipoacusia e di acufene. Sarebbe stato lo stesso cantante pugliese per eccellenza a raccontarlo nel brano Larsen, cantando in maniera abbastanza decisa, facendo sapere tutti di soffrire di questi due problemi di salute. E la dichiarazione che avrebbe rilasciato lo stesso Caparezza al resto del Carlino sarebbe una rivelazione non proprio del tutto positiva per i tanti panchea sparsi per l'Italia. Soffrendo di acufene e di ipoacusia, io non posso più fare lunghi giuri di concerti, come quando accadeva nel passato, in certi anni di difficoltà ho incontrato molti colleghi che mi hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l'ho fatto, ma non è cambiato alcun che, così ho deciso di smettere di cercare cure di miracolose per il mio deficit uditivo. Lì per lì ho scoperto di non poter ascoltare la musica e le cuffie, sono andato quindi nella crisi, pensando al mio corpo come un'autentica prigione, ho cercato di tutto, iniezioni, pilole, psicoterapia, alla fine ho deciso che dovrò semplicemente tenermi a magari pensare a distrarmi. Ho un progetto nuovo, ho ricevuto anche la passione per i modi di fumetti, ossia un costo di sceneggiatura, potrebbe dare un definito di giorno. Diciamo che quindi ci sarebbe, ma non è sicuro, forse l'intenzione da parte di Caparezza di lasciare la musica, ma io non credo che sia questo, anche perché non è che ha detto specificatamente io, Michele, io Caparezza vado a lasciare la musica. Ha detto semplicemente che sta lavorando su un altro progetto, che sarebbe quello relativo ai fumetti, tutto quello, quindi non si può dire che sicuramente lascerà la musica, va bene? Detto questo, io vi ringrazio in primis per la visione e in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, ovviamente questo video non vuole dare la preparazione di Caparezza né di altre persone, ma solo informare eventuali esseri umani, tengo a specificare che ho utilizzato doverosamente il modo condizionale perché non voglio avere problemi di soltanto, quindi potrebbe lasciare, potrebbe, non è che ho detto che sta lasciando, potrebbe eventualmente lasciare la musica per colpa di Caparezza e di Ipoacosia. La narratore italiana è tutto, c'è la tutta una buona